Ciao lettrice e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi sto per fare una cosa che non ho mai fatto su questo canale ovvero girare un intero video senza neanche un titolo fantasy all'interno, sono molto fuori dalla mia comfort zone però come penso sappiate tutti questo mese si è svolto il premio strega che è stato vinto da Em, il figlio del secolo del quale parleremo più tardi e niente quindi io ero molto ispirata già dall'uscita dei 12 finalisti nel leggere tanti titoli perché mi sembravano interessanti quindi vi racconto quello che io ho letto del premio strega che non sono tantissimi ma ce ne sono diversi sono 7 i libri che ho letto o almeno 6 poi dopo vi spiego e quindi niente direi di iniziare perché abbiamo tantissime cose di cui parlare parto direttamente dal vincitore ovvero da Em, il figlio del secolo e devo dire che io purtroppo dopo 100 pagine ho abbandonato il libro mi sono arenata perché mi stavo rompendo le scatole e non... cioè mi ha quasi creato una mega slump questo libro trovo che Scurati abbia fatto un lavoro incredibile per farlo ma mi ha annoiato perché mi sembrava davvero di leggere un libro di storia più che un romanzo poi in parte non è sicuramente così però personalmente Em non fa per me trovo bello anche il messaggio che Scurati ha voluto inserire ovvero mostrare una figura che fondamentalmente si riadattava un po' come la forma dell'acqua no? in base alla situazione nel quale si ritrovava far emergere quanto fosse vuoto la figura di quell'uomo lì però sinceramente non mi ha interessato non mi ha per nulla colpita quindi sono andata avanti e ho iniziato a leggere tanto altro che invece devo dire mi è piaciuto moltissimo parto dal primo titolo che è Città e Reale di Cristina Marconi che mi è piaciuto moltissimo gli ho dato 4 stelline su 5 è un libro che ho letto grazie a una collaborazione fatta con Biperbanca per il progetto Teenspace insomma vi rimando alla mia foto su Instagram se siete curiosi di vedere è un libro che parla fondamentalmente di emigrazione ma non solo anche del senso di non appartenenza eccetera che è un tema secondo me molto ricorrente quest'anno nello strega e che trovo anche molto moderno e reale e devo dire che la mia prima impressione fu molto molto positiva appena letto poi leggendo anche gli altri essendo un tema anche così ricorrente così trattato anche da tanti altri autori insomma ho un attimo ridimensionato il mio entusiasmo rispetto a Città e Reale però devo dire che è un libro che ha raccontato moltissimo anche di me e che mi è piaciuto molto infatti ci troviamo a seguire Alina che è una ragazza romana che però emigra a Londra e per fare fortuna fondamentalmente trovare lavoro nonostante a Roma abbia un ruolo che le piace molto però dove non viene pagata abbastanza si trova insoddisfatto insomma vive quelli che sono i drammi moderni dei giovani italiani si trasferisce a Londra con un lavoro dove è molto demansionata rispetto a prima però guadagna meglio ha possibilità però di fare carriera e infatti il suo ruolo cresce man mano dentro l'azienda proprio perché insomma ci troviamo in una società che è molto più meritocratica rispetto a quella italiana e in più Alina subito inizia una relazione con un ragazzo inglese ora lo appoggio perché mi sto gesticolando tantissimo Alina inizia questa relazione con un ragazzo inglese e quindi inizia a vivere un po' una parte di Londra una parte di Inghilterra ma soprattutto di Londra che è molto particolare che è quasi lontana da la maggior parte degli emigrati italiani infatti entra in contratto soprattutto con persone inglesi e perché vive proprio la parte molto più legata alla sua nuova relazione e questo la porta un po' a sentirsi in dovere di dimostrare quanto si è adattata quanto ha abbandonato la sua origine quanto sta diventando sempre di più inglese e anche come Ian che è il suo fidanzato di quel momento invece abbia troppe cose ancorate al passato e quindi come questa relazione sia fondamentalmente anche disfunzionale per tante cose e niente allora fondamentalmente perché mi è piaciuto molto questo libro perché parla di cose veramente molto reali che tantissimi di noi hanno sperimentato e hanno vissuto trovo che il modo in cui anche Cristina Marconi racconti dei dubbi che assillano anche i giovani in questo momento giovani e non giovani anche quelli della mia età che magari sono nel dubbio del non sono partita perché non sono partita grande cosa ve ne ho parlato comunque già in una recensione insomma Cristina Marconi secondo me ha fatto un buon lavoro nel rappresentare questa dualità questo non essere mai appartenente non appartenere mai davvero a qualcosa e come questa città che è Londra dove vive Alina la protagonista sia sempre diversa in base al modo in cui la si vive e come anche una stessa persona può mai sentirsi davvero radicata in questo posto come sia sempre un passaggio e come forse non ci si senta mai davvero ancorati a questa realtà sospesa molto molto bello secondo me è un libro molto interessante che parla di emigrazione in maniera interessantissima però se devo un po' trovare dei difetti a questo libro c'è sicuramente che c'è tanta a volte inciampa perché la scrittura della Marconi a volte non è perfetta perfettamente lucida si vede che cerca sempre degli espedienti e questo non sempre rende tutto molto scorrevole molto automatico è una scrittura abbastanza fluida un po' vicina al flusso di coscienza in alcuni punti perché viviamo soprattutto i pensieri e ciò che si agglomera nella testa di Alina non è forse così efficace sempre e in più ci troviamo sempre a vivere comunque ad assistere ad una storia che a mio parere questo però è un'opinione molto personale ed è un mio problema è molto patinata perché comunque ci troviamo a vivere in una situazione dove la relazione che ha Alina con Ian sono in un punto sono chiaramente di un ceto sociale abbastanza alto quindi lei non vive anche quei drammi insomma un po' più terra a terra cosa che secondo me è un po' meno apprezzabile perché è tutto molto pattinato tutto molto in alto quando in realtà secondo me anche per parlare di alcuni dubbi è necessario partire anche da altre situazioni almeno io l'avrei preferito ecco però devo dire è un buonissimo romanzo che vi consiglio tanto per non parlare invece di borghesia passiamo a Lux della Marangoni edito da Aneripozza che me ne ha fornito una copia e io ringrazio moltissimo devo dirvi che con questo libro ho avuto un rapporto un po' strano ero un po' demotivata nella lettura inizialmente ma poi davvero la prima parte l'ho trovata magnifica e anche a questo libro ho dato quattro stelline forse sono più tre e mezzo che quattro però lo trovo molto interessante soprattutto perché è molto fedele al suo titolo comunque ci troviamo a seguire un protagonista che ha ereditato delle cose assurde da uno zio che conosceva solo in maniera molto lontana e solo per il suo carattere eccentrico si trova ad ereditare un'isoletta nel sud Italia un vulcano un hotel e una sorgente di acqua quindi siamo proprio cose un po' folli ok e insomma questa famiglia strampalata dalla quale lui proviene costellata di personaggi di piccole storie che comunque compongono tutto questo mondo quasi fossero un puzzle lo portano insomma effettivamente ad affrontare questo viaggio verso l'Italia del sud ci troviamo in Inghilterra inizialmente scusate mi ero scordata e quindi insomma anche a riscoprire ciò che ha ereditato e a riscoprire anche questo lato nascosto della famiglia allora partiamo dal presupposto inizialmente un po' ero infastidita perché di nuovo mi trovo a leggere di alta borghesia perché guarda casa noi comuni umani non capiterà mai di ereditare un'isoletta nel sud Italia al massimo un pezzo di terra che nemmeno è coltivabile nel mezzo del nulla comunque vabbè e quindi un po' all'inizio ero soprattutto infastidita a questo in realtà l'ho trovato molto molto interessante perché proprio la luce è il tema portante di tutto questo romanzo proprio come se l'autrice che ha un linguaggio molto molto interessante un metodo narrativo che secondo me è proprio come la luce che tocca le cose te le mostra però non in maniera molto profonda e infatti ci troviamo ad incontrare tantissimi personaggi credo siano più di una sessantina quelli che noi vediamo nominare o comunque incontriamo nel corso del romanzo sempre in una maniera molto veloce e molto rapida senza mai entrare molto nel dettaglio però che tutti vanno a comporre questo quadro familiare assurdo che secondo me è molto interessante e un po' la storia di come il nostro protagonista Thomas in questo caso riscopre cerca di riscoprire qualcosa che ha sempre percepito come lontano o che non ha mai esplorato fino in fondo e forse anche che cosa può significare avere reeditato qualcosa di così lontano e che lo costringe perché non è proprio convintissimo nell'affrontare questo viaggio ma a un certo punto abbraccia questa idea di andare verso il sud Italia devo dire la seconda parte del romanzo mi è sembrata meno lucida e meno forte della prima la prima è molto molto interessante e anche molto godibile però trovo questo esperimento davvero interessante un libro che davvero mi ha colpita perché ho trovato originale soprattutto nella scrittura e nella fedeltà al tema della luce perché questa luce è data sia da come colpiamo i personaggi è data anche dalla storia d'amore come questa figura di Sophie sia così illuminante nella vita di Thomas e proprio sembra il raggio di sole della giornata come anche la folgorazione dell'avere ereditato questo posto sia qualcosa che nella vita di Thomas diventa una fonte di luce e trovo interessante questo esperimento lo trovo davvero molto godibile allora devo dire che poi la cosa la cosa poi più potente del romanzo è come ricorda a degli echi sicuramente di Proust ma io ci ho visto anche la Morante come ci ho visto tanti altri personaggi della letteratura italiana che identificano negli oggetti le persone vengono sempre descritte per ciò che possiedono gli oggetti la caratteristica particolare ad esempio questo zio eccentrico viene descritto tramite un elenco di possedimenti assurdi che ha e l'ho trovato molto molto interessante non originalissimo devo dire perché infatti è un po' molto in bilico con il classico però visivamente molto forte visivamente molto molto impattante e quindi personalmente lo trovo molto riuscito un buonissimo esperimento della Marangoni e che sicuramente vi consiglio forse non è il mio preferito dei finalisti dei 12 finalisti ma è un libro che sicuramente ho letto con piacere quindi ve lo suggerisco moltissimo a proposito di borghesia no anzi finalmente questo è il motivo per cui ho amato di più questo libro è uno dei miei preferiti che è l'età straniera di Marina Mander o Mander o non so come si pronunci però finalmente qua ci troviamo in una situazione più comune in una situazione che non deve usare l'espediente della borghesia per raccontare un tema anzi in questo caso noi seguiamo una famiglia scancherata quella di Leo che sta crescendo che è in crisi totale nella sua esistenza in primis perché è un adolescente ma soprattutto è un adolescente che ha alle spalle una situazione molto pesante in famiglia infatti il padre si è suicidato gettandosi in mare e la madre cerca di compensare tutta questa mancanza questi vuoti affettivi colmandoli con la beneficenza colmandoli con le sue attività sociali fatte ormai gratis perché non ha più nemmeno uno stipendio e con un fidanzato molto improbabile che fa il tassista insomma la storia è un po' assurda insomma diciamo senza volerlo proprio per colpa della madre Leo entra in contatto con Florin che è un ragazzo di origine rumena che è stato costretto a prostituirsi dal padre e quindi nasce questa sorta di amicizia assurda convivenza forzatissima tra i due che però devo dire ho trovato molto forte e toccante in alcuni punti anzi Leo credo sia un personaggio costruito benissimo la scrittura è molto strana e la scrittura di questo romanzo è molto superficiale molto grezza molto diretta non è rifinita in nulla e per me invece è stato giusto che fosse così perché in fondo ci troviamo a seguire la storia di un ragazzo che vive una crisi una crisi che ha tutti i motivi di esistere che si confronta con Florian che ha una storia che apparentemente è peggio della sua e come questi due ragazzi scoprano una forza vicenda come si scoprano anche come due alleati che sembra impossibile ma insomma può succedere lo trovo un romanzo davvero adattissimo ai ragazzi più che a quelli della mia età anche se sicuramente è molto toccante anche per chi è più grande però lo trovo perfetto per dei ragazzi molto giovani è molto scurrile molto grezzo davvero però per me Marina Mander è riuscita a mettere insieme una storia che parla di adolescenza proprio come in questo caso si chiama l'età straniera come un qualcosa che ti manda in crisi che ti fa sentire alienato arrabbiato Leo è in profonda crisi perché è un adolescente quindi è stato come siamo stati proprio noi è ossessionato dal sesso è ossessionato dalla musica grunge è rabbioso insomma e troverà in Florin qualcosa che non avrebbe mai pensato e che inizialmente rigettava quindi confluisce anche nei suoi pensieri su Florin tante tante emozioni che magari vorrebbe direzionare altrove e invece deve convogliare lì no? perché non lo può fare con la madre hanno questo rapporto molto strano non si parlano non c'è comunicazione e non so per me è stato molto molto bello lo trovo un ottimo romanzo per ragazzi nella maniera più riuscita possibile una scrittura molto snella scarna non è qualcosa chiaramente forse la scrittura è l'aspetto più debole ma secondo me nemmeno perché ha degli obiettivi molto chiari secondo me tramite questa narrazione la Mander e quindi davvero rimane uno dei miei preferiti tra quelli che ho letto anche perché davvero ci confrontiamo con una violenza sia psicologica da un lato ma anche soprattutto fisica per quanto riguarda Florian e la sua storia e anche il disagio sociale insomma per me questo è molto più prezioso di tanti altri perché ce l'ho un po' con la borghesia io perché basta ci vogliono dei romanzi che parlino del basso non solo della della crisi della medio borghesia italiana mi ha rotto le scatole questo tema cioè mi ha rotto un po' le scatole questo tema della crisi della borghesia italiana perché fondamentalmente sentiamo parlare di queste cose da metà ottocento basta poi arriviamo a il mio preferito cioè quello che mi è piaciuto meno di tutti purtroppo il più accreditato quello che davano praticamente già per vincitore in alternativa scurati ovvero fedeltà di Missiroli allora con tutto il bene mano sul cuore forse sono io che non ho capito e ammetto tutte le mie lacune ma fedeltà racconta in maniera un po' più corale di quanto mi aspettassi devo dire la storia tra due persone che continuamente hanno il sospetto l'uno verso l'altra del tradimento sospetto che non viene mai chiarito dall'inizio alla fine quindi seguiamo inizialmente l'inizio di questa storia l'inizio anche di questi questi dubbi queste incertezze questo quadro che viene dipinto tramite citazioni luoghi azioni eccetera è una maniera che ricorda molto a mio parere chiaramente si ispira a Roth eccetera eccetera pennellate quasi di scrittura più che vere e proprie scene e quindi insomma questo dubbio questo questa incomprensione del dubbio questo non chiarirsi mai se ci sia stato o meno questo vivere perennemente con questo mostro no che ti divora l'anima e che non riesci mai a chiarire è ciò che ci portiamo dietro per tutta la narrazione queste due persone che non parlano perché non si chiariscono mai e già qua vabbè e quindi costantemente temono l'infedeltà dell'altro e come invece viene vissuta la fedeltà questo è l'unico concetto che ho trovato molto apprezzabile ovvero l'infedeltà il dover trovarsi portato all'infedeltà per rimanere fedeli a se stessi che è un concetto che viene sviluppato in maniera molto frammentaria che però insomma viene ricostruita all'interno dell'arco narrativo devo dire fondamentalmente l'infedeltà di Missiroli per me è una cosa che mi ha lasciato molto indifferente ed è questo forse il senso che ha comune a questo libro è un libro che ha buoni spunti allora da un lato devo dire che secondo me è molto interessante il tema di fondo questo concetto di questo tradimento mai svelato e come il tradimento sia qualcosa che ci fa rimanere fedeli a noi stessi cosa condivisibile o meno comunque come viene portato avanti dal protagonista e dall'autore secondo me è interessante dall'altro lato ho trovato anche forte che è una cosa inusuale e strana il fatto che Missiroli sia riuscito a scrivere un libro su un argomento trito ritrito e stucchevolissimo senza scadere mai nel banale senza riuscire mai a inciampare nella resa di queste tematiche che comunque la questione della fedeltà e del dubbio del sospetto sono viste riviste eccetera invece secondo me Missiroli riesce un po' a dare una rinfrescata parola molto gentile nei confronti di questo libro diciamo comunque riesce a non tediarci su questo tema cosa che ho trovato splendida però se da un lato ho fatto questa operazione non banale dall'altro io mi ci sono triturata le ovaie se non che ho provato soprattutto indifferenza verso tutta la storia verso i personaggi verso ciò che provavano perché non mi sembravano per nulla autentici mi sembravano proprio funzionali alla tematica che è una cosa complessa strana da spiegare però fondamentalmente io per loro non ho mai provato empatia ho provato empatia solo per questo dubbio e non che io ricerchi l'immedesimazione nell'empatia nei personaggi dei quali leggo però devo dire che in questo caso avrei molto di più apprezzato riuscire un po' a immergermi nella loro drammaticità cioè o almeno nella forza drammatica di questo sentimento grazie ai personaggi me la sono visualizzata così mentalmente mi è sembrato proprio che i personaggi fossero vuoti involucri e funzionali e questa cosa non mi ha entusiasmata poi forse perché effettivamente la cosa che non mi ha non mi ha dato una grande spinta riguardo a fedeltà è che anche proprio riguardo al tema non c'è mai un'illuminazione non c'è mai un'epifania e anche in questo caso non è obbligatorio che ci sia però almeno qualcosa di più trascinante più viscerale un'emozione provata in maniera molto più forte molto più in maniera più violenta visto che si sta parlando anche di dubbi e di infedeltà sono cose che almeno per me sono molto più viscerali e passionali dell'essere umano sono cose anche irrazionali e quindi non lo so perché proprio appunto il mio dubbio riguardo a questo libro e ripeto questi sono pareri personali quindi sono visioni molto mie riguardo al tema in fondo mi chiedevo ma quindi che senso ha avuto rimanere fedeli a noi stessi che cosa ci abbiamo guadagnato alla fine di questa lettura nel rimanere fedeli a noi stessi fondamentalmente uno sbrozzo di pagine mi è sembrato proprio un romanzo che non decolla non decolla perché ha tanti spunti che non riescono mai a essere incisivi e per me questo è un limite di questo libro contando che già è un libro che ha uno stile molto sperimentale per alcuni versi non esageratamente come atti osceni in luogo privato però devo dire che pur essendo raffinato si ispira sicuramente a Roth Carver eccetera e secondo me non riesce assolutamente ad avere la stessa potenza poi devo dirvi che se all'inizio le prime citazioni furbe mi erano piaciute dopo un po' ho capito che era il modo per imbonirsi il lettore quindi per me è una paraculata vengono citati Random Game of Thrones Ritorno al Futuro Pink Floyd è una serie infinita di cose anche un po' più pop e questo mi è sembrato proprio una forbata proprio paraculo totale e quindi anche questo secondo me ha un po' stonato anche con voler rappresentare qualcosa di odierno era proprio un imbonirsi il lettore a me non è piaciuto cioè non è che non mi è piaciuto mi ha infastidito dopo un po' perché erano evidentemente degli spunti degli ami per richiamare l'attenzione perché a un certo punto era talmente diciamo su porifero è una parola molto forte però diciamo non era così incisivo come speravo che fosse però poi ti buttava lì queste citazioni di cultura pop e non solo che quindi chiaramente ti reanimavano un attimo e io l'ho trovato un po' disorientante in generale proprio grazie alla scrittura c'è questa sperimentazione questo rigurgito di aneddoti azioni scene episodi personaggi che comunque interagiscono tra di loro e insomma dispersivo nel suo voler rappresentare un quadro che dovrebbe essere soprattutto interiore e per me non ci riesce quindi devo dire che per me due stelline e mezzo tre per l'indifferenza fedeltà non riesce a superare secondo me qualsiasi aspettativa non riesco a capire davvero dove abbiano visto il capolavoro non ha la forza di quelli che scrivono come lui non ha la forza l'incisività nella storia non lo so alcuni spunti sono molto interessanti altri secondo me sono molto banali e trattati in maniera che mi ha lasciato totalmente indifferente ripeto è un mio parere personale se l'avete amato magari spiegatemi perché a voi invece ha convinto molto di più altro libro che ho letto e davvero davvero amato è addio fantasmi di Nadia Terranova in maniera abbastanza inaspettata devo dire tra l'altro ho ascoltato l'audiolibro perché avevo già comprato il libro ma poi non avevo mai tempo così invece ho rifatto l'abbonamento a Storytel quindi mi sto macinando audiolibri infatti ho ascoltato anche fedeltà in audiobook in audiobook sì audiobook allora Nadia Terranova addio fantasmi ci troviamo a seguire la storia della nostra protagonista che è appena tornata in Sicilia dopo una vita passata a Roma lei è siciliana e ha lasciato la madre e ritorna perché la madre vuole mettere la casa di famiglia in vendita e quindi ha bisogno di una mano in questa casa poi noi scopriamo subito che c'è una grande presenza che è assente ovviamente uso queste parole perché avranno senso nel senso che il padre di Nadia ovviamente il marito della madre un giorno è scomparso ha lasciato casa e non vi ha mai più fatto ritorno e questo ovviamente suo scomparsa questo suo abbandono della casa per entrambe le figure che noi andiamo a conoscere quindi Ida e la madre è una presenza molto ingombrante perché non se ne va è un fantasma che non riesce a lasciarle sole perché tutto ciò che noi seguiamo attraverso gli occhi di Ida nel suo viaggio in Sicilia soprattutto nella casa nelle azioni che compirà appena tornata a casa sono tutti dei piccoli ricordi dei frammenti che rimandano continuamente a questa assenza a questo padre che le ha abbandonate e che per la madre rappresenta una figura che chiaramente l'ha lasciata sola e che l'ha abbandonata ad una vita dove lei se l'è dovuta gestire totalmente da sola invece per Ida che è la nostra protagonista ha significato una crescita dove lei si è dovuta in parte sostituire al padre ha dovuto cavarsela da sola ha dovuto riempire quel vuoto ed entrambe hanno cercato di riempire quel vuoto in maniere diverse diventando ovviamente una famiglia con enormi problemi perché se da un lato non c'è mai l'accettazione di questa scomparsa perché non è come un morto non è come un lutto vero e proprio dove puoi piangere qualcuno che è scomparso in questo caso il padre afflitto da depressione un giorno ha abbandonato la casa e la famiglia e chiaramente entrambe hanno percepito questo vuoto del quale non riescono a parlare che non riescono ad elaborare fin tanto che non decidono di vendere la casa e insieme a questa casa probabilmente anche il bagaglio emotivo e i ricordi che si portano dietro tutto è ricordo all'interno di questo libro ogni singola azione è legata alla figura del padre anche solo l'orologio Ida ricorda che ha dovuto cambiare le pile perché nessuno lo faceva più in casa lei si è dovuta sostituire al padre proprio per fare i lavori più basilari e come la madre non abbia mai veramente superato questa fase come sia sempre in lutto perenne come se fosse ancora in attesa di questo grande ritorno come tra di loro in realtà ci fosse un'infelicità profonda sia verso il marito che verso la figlia e quindi niente è un libro che ho trovato davvero magnifico perché ha una scrittura che mi è piaciuta tantissimo che riesce a reggere fino in fondo uno stile molto sostenuto e per me molto molto interessante devo dire che forse non è originalissimo nel suo interpretare la mancanza l'abbandono e anche il senso del ritorno alla terra d'origine come ritorno per affrontare alcune cose che non si sono mai veramente affrontate come sia stata prima una fase più di fuga che altro bellissimo devo dire mi è piaciuto moltissimo anche proprio l'esperienza tattile di questi ricordi questa come traduceva le emozioni in azioni quotidiane molto semplici il letto ogni cosa che ricordava un'azione piccola un qualcosa legato al passato che comunque è sempre stato doloroso magnifico devo dire questo è uno dei miei preferiti l'ho già detto anche di della Mander questo si posiziona comunque più o meno nella mia top 3 perché è bellissimo devo dire che questo ve lo consiglio di cuore perché è veramente molto forte molto potente ho tenuto in fondo quello che per me è il vincitore morale di questo premio strega cioè nella classifica misfiction dello strega se io entrassi mai cioè non avrei nessun motivo per entrarci però se mai dovesse entrare nella giuria per me questo è il vincitore morale dello strega perché è l'ultimo libro che ho letto non li ho letti tutti perché non ho avuto tempo ho letto anche altro e nel frattempo devo dirvi che per me il vincitore morale è La straniera di Claudia Durastanti è un libro magnifico davvero molto intenso e molto bello è un libro schizofrenico quasi che mi ha lasciato veramente a bocca aperta allora perché secondo me La straniera è nettamente superiore agli altri che ho letto io quantomeno perché innanzitutto è una storia molto originale e un'autobiografia praticamente della vita di Claudia e del suo provenire da una famiglia veramente disfunzionale a dei livelli incredibili i suoi genitori sono entrambi sordi e quindi lei ha vissuto comunque come con il fratello la disabilità in prima persona ed è trattata in maniera magnifica questa parte dove viene descritta ma oltre a questo i suoi genitori emigrano da un paese della Basilicata nel profondo della Basilicata a New York per poi tornarvi quando lei è adolescente quando è giovane fare avanti indietro continuamente questi lunghi spostamenti segneranno la sua vita lei torna in Basilicata poi si sposteranno a Roma perché i suoi genitori a un certo punto si lasciano con considerazioni abbastanza interessanti e nuove secondo me anche sulla disabilità in questi casi anche perché i suoi genitori oltre che a essere disabili la madre ha un leggerissimo problema con le droghe il padre invece è un paziente psichiatrico e quindi la sua vita è costellata da episodi deliranti folli e che la segnano profondamente e questo su sentirsi straniera è parte integrante proprio della sua esistenza lei descrive il suo appartenere a tutto ma non appartenere mai a niente l'essere straniera in quanto mai veramente radicata in un posto in un'idea in una famiglia in un momento in una maniera molto fresca molto snella anche snella tanto quanto la scrittura che è una scrittura che si sofferma su tante su tante cose che ha razionalizzato Claudia nel corso degli anni su pensieri che ha avuto pensieri che ha tuttora eccetera eccetera e secondo me è magnifico poi seguiamo Claudia nel suo trasferimento a Londra prima nell'essere stata assunta a Roma e nelle sue prime esperienze lavorative le esperienze di vita dove lei non vuole però parlare della propria famiglia per evitare il pietismo e per riuscire per aver vissuto anche in maniera molto diversa da tutti gli altri sentirsi proprio straniera nel senso di diversa quindi diciamo nel senso forse più profondo di questo termine l'essere poco vicina alle storie degli altri quindi essere sempre vista come un alieno un qualcosa che non è mai identificabile inquadrabile secondo dei canoni che erano stati fissati dagli altri o sono fissati dalle storie dagli altri penso che questo come è stato anche per Città Ireale ma come è stato anche in parte per Addio Fantasmi ci faccia molto ragionare sull'appartenenza sul radicamento sull'esistenza sulla nostra identità se la nostra identità ha a che fare con i luoghi ha a che fare con le esperienze eccetera penso che la straniera sia davvero molto potente perché è qualcosa che secondo me è molto molto nuovo molto diretto riesce comunque a raccontare una vita che è fuori da ogni canone e a farlo anche con uno stile che secondo me è molto molto snello però allo stesso tempo molto profondo e mi è piaciuto moltissimo davvero c'è un libro che secondo me ti fa andare a dormire con il cuore super gonfio di emozione perché viene suddivisa questa biografia per capitoli che hanno delle tematiche legate proprio a dei momenti e forse anche alle realizzazioni che ha avuto Claudia durante il corso della sua vita è una storia folle potentissima e che sicuramente è molto toccante in alcuni versi anche vedere come sia stata sola e abbia sperimentato l'indifferenza il pietismo e come ha affrontato la propria famiglia in primis perché è una famiglia alla quale lei non ha mai potuto diciamo fare riferimento come appoggio vero e proprio sempre stata indipendente al massimo proprio per la sua storia e come sia cresciuta in fretta come abbia sperimentato tantissimo come sia stata emarginata snobbata come sia stata trattata da italiana quando era in america e da straniera quando era in italia come sia stata come abbia vissuto e sperimentato magari in prima persona emozioni che a me hanno fatto sorridere perché le ho trovate molto visivamente quantomeno molto reali no il fatto che una volta chi parlava inglese bene veniva denigrato perché non si può parlare inglese bene chi ci provava anzi finiva per perdere interesse perché veniva considerato uno sfigato e non lo so l'ho trovato anche in queste piccole immagini molto molto potente poi credo fermamente che lo scopo di tutta la narrazione sia quello soprattutto di ricomporre di definire forse trovare una forma qualcosa che è una forma che non l'ha mai avuta davvero sono molto colpita da questo romanzo perché è stato meraviglioso anche ascoltandola in audiobook ho dovuto fermare più volte per appuntarmi ciò che veniva detto ciò che veniva scritto perché la dura stanti è incredibile ha veramente colpito nel segno nel rappresentare un'identità che non ha mai una forma e che lei ha cercato di mettere insieme un po' anche di definire definire se stessa dentro questa forma che lei dice proprio nel libro che la forma per lei linguistica è qualcosa che la mette in crisi perché non si sente appartenere solo all'Italia si sente appartenere comunque a tante lingue a tante realtà e quindi è un modo anche per mettere forse a terra una sorta di sensazione della non appartenenza però cercare di fare il punto e quando lo traduce in forma per lei è sempre un momento di crisi e in questo caso secondo me crisi lei non ne ha avuta perché è riuscita davvero a creare una narrazione estremamente avvolgente appassionante e mettendo insieme in fila tramite tematiche non in ordine cronologico del tutto ma sempre e soprattutto per fare il punto su qualcosa che secondo lei ha davvero bisogno di essere messa a terra ha bisogno di un punto fermo perché forse è più qualcosa che lei necessita tramite questa scrittura e tramite il processo della scrittura che secondo me è davvero la cosa più forte che io abbia letto in questi sei sette libri che ho letto dello strega penso che fosse davvero la sperimentazione più interessante almeno tra quelle che ho letto io e più originale perché riesce a rendere non solo il tema della non appartenenza ma anche della ricostruzione dell'identità tramite i luoghi le forme la famiglia la propria storia ho avuto i brividi continuamente mentre lo leggevo perché comunque è veramente molto toccante ed emozionante ma allo stesso tempo ha una lucidità tale da farti quasi impressione e bellissimo poi vabbè citazione a margine di band che io ho amato e quindi questo fa sempre acquistare punti perché non erano paracule stavolta perché Claudia Durastanti fa anche la giornalista musicale da critica e quindi niente quindi per me il voto il mio voto va sicuramente a questo tra i miei preferiti ve lo ricordo c'è sicuramente la straniera al primo posto poi direi addio fantasmi e l'età straniera mi sono piaciuti moltissimo però anche gli altri che ho letto devo dire l'unico che non mi ha fatto impazzire è Missiroli e l'unico che ha abbandonato è proprio il vincitore cioè Scurati detto ciò non ho letto il resto però magari chissà niente io spero che comunque anche se oggi non ho parlato di fantasy questo video vi possa essere interessato e magari chi è curioso di scoprire qualche titolo dello strega almeno ha la mia opinione sotto gli occhi o per le orecchie e niente fatemi sapere se avete letto qualcosa voi che io non ho letto così magari me lo appunto oppure se quelli che vi ho suggerito io magari hanno dei pareri molto diversi per voi insomma sono curiosa niente come sempre io vi invito ad iscrivervi al mio canale ad attivare la campanellina per essere aggiornati ogni volta che esce un mio video giù nell'info box trovate tutti i link ai miei social a Amazon se volete acquistare tramite i miei link di affiliazione e anche a Ko-fi se volete offrirmi un caffè perché quello che dico e blattero durante i miei video vi interessa e vi piace in qualche modo volete sostenermi niente ci sentiamo giù nei commenti spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao